Adesso è tutto chiaro. Meglio togliere il disturbo. Le parole diventano voce e cadendo su una pagina di diario possono cancellare qualsiasi dubbio. La certezza, seppur amara e feroce, è pur sempre una carezza. Una verità da scrivere per essere letta. Le risposte arrivano con il tempo che dette il ritmo seguendo l'inevitabile scia che dall'imbo del pianto improvvisa riemerge. Ad ognuno ciò che si merita non può esistere perdono per chi ha scatenato la tempesta. Forse ho sbagliato, ma la vita ti obbliga sempre. Era inevitabile una scelta ed era inevitabile la conseguenza. Fu il destino che decise, quel destino che adesso, silenzioso e schizofrenico, ti riporta su quella strada. Strada mai dimenticata, ma che oggi è diventata impraticabile, troppo stretta. Sì, le tue parole sono un tuono, un tuono che mi risveglia, riportando la speranza con i piedi a terra. Adesso è tutto chiaro. Il passato è passato. Ed è giusto non illudersi. Mi ritiro. Lasciandoti il mio saluto.